Abbiamo fatto il formato della squadra con le maglie, quindi abbiamo finito 11 maglie e ci sono mi sembra, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Le ultime maglie sono importanti, i due giocatori importanti della Fiorentina, attuali, Chiese e Ribéry, la mia vabbè, è un po' vecchiotta però. Conta ancora, quindi siamo contenti e felici di averti portato queste maglie. Grazie. Bravo. Bravo. Le altre due maglie di Ribéry e Ribéry sono già firmate, adesso c'è la firma del nostro Antonio, che firma sul numero 10, firma live. Consegnate alla nostra Dalila, che poi a volte ci porterà tutti insieme, insieme a Vagiappini. Ora lo spazio è tutto dei fotografi, giustamente, che hanno la gestione. Come si, se ti gioco. Spazio è tutto. Ciao. Inizia. Come si, se ti chiede. Ok, non è l'attività.